Oggi si parla sempre più spesso di Smart City e di solito ci si riferisce a tutto quello che succede nel mondo iperconnesso sulla superficie della città, trascurando il sottosuolo. L'innovazione applicata al calcestruzzo, che è sempre stata la visione che ha sostenuto le scelte di tecnologia di Coprem, trova oggi la sua espressione più attuale nel nuovo Coprem SmartPipe, un sistema preventato di video ispezione 24 ore su 24 per condotti nuovi ed esistenti. Sistema che appunto presentiamo per la prima volta oggi al servizio a rete tour. Tra i tanti vantaggi, rilevamento delle anomalie, monitoraggio messo in sicurezza, collegamento a reti di trasmissione esistenti, manutenzione programmata. Questo nuovo sistema della Coprem si inserisce perfettamente in quella filosofia green che caratterizza il mondo attuale di grande trasformazione della nostra città e di tutte le reti di distribuzione sotterranee, quasi per un nuovo rinascimento con implicazioni non solo ambientali ma anche sociali di grande portata.